Tutto questo è avvenuto in termini di competizione, di contest, come si dice nei paesi anglosassoni. Molti dei membri della giuria, in particolare il Presidente e il Professor Cherubino, mi hanno fatto proprio notare che in Italia il contest non avviene quasi mai, mentre invece è il vero e proprio metodo di lavoro che si usa nei paesi anglosassoni per motivare tutti comunque a dare il meglio di sé, anche se poi non si vince la borsa di studio o il finanziamento, è un momento di confronto, un momento anche di scambio di informazioni. Vorrei sottolineare che l'aspetto importante di questo incontro è il contenuto del contest, il contenuto della gara fra ricercatori e cioè la lotta contro il dolore. Tutti quanti noi, che non siamo medici o ricercatori, cosa chiediamo alla medicina? Chiediamo ovviamente di non ammalarci e quindi norme sulla prevenzione, chiediamo cure adeguate se ci ammaliamo, chiediamo di non morire ovviamente se la malattia è grave, ma soprattutto tutti insieme, e siamo accumunati in questo, chiediamo di non soffrire. Allora un contest dedicato a nuovi modi di combattere il dolore, sia in termini di tipo di somministrazione, sia in termini di rapidità di assorbimento, sia in termini di facilità di utilizzo, anche in termini di automedicazione, non può che essere un grande passo avanti nell'interesse di tutti.